ciao a tutti bentrovati siamo già tantissimi dopo 15 giorni abbiamo un po' latitato per le pausa pasquale siamo pronti a ricominciare vedo che vi asetemi tantissimi questa cosa mi fa estremo piacere vi vorrei salutare una a uno ma potrei farcela e niente prima di cominciare due cose lezione che mirerà principalmente la tonificazione degli atti inferiori dell'algiome abbiamo iniziato una collaborazione con un bellissimo negozio online manni sport vi lascio il link per il sito e il codice sconto amici di paolo chi vuole usufruire sono riuscito a parlare con il proprietario una persona lentissima e ci ha fatto un extra sconto del 15 per cento quindi con il codice potete acquistare e risparmiare un po' quindi dateci un'occhiata e il materiale buono già mi è arrivato e l'ho provato e usciranno altre lezioni a poco con il materiale appena il tempo si ristabilisce per girare all'aperto niente pronti per iniziare con la nostra attenzione di pilates live dopo un po' che ci siamo fermati piedi più o meno l'artezza delle spalle ginocchia sbloccate in modo che abbiamo un controllo muscolare l'addome tiene respirazione torace che ne fai due inspiri massima in apri 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 ed espirando svuota completamente scivola costa torace bacine stringi bene dal gioco vai ancora apro ed espirando scendo 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 svuota vai su vai a unire puntate le dita e spingi palmi verso l'alto omelico bene dentro da qua il tuo palmo destro va verso sinistra e allunghi a 45 gradi cerca bene l'estensione allontana bene testa dell'omero da crescerea che spingo con la pressione bene sulle scatole torni al centro dall'altra parte stessa cosa sarà il tuo palmo sinistro che spinge in alto come se dovessi toccare con il palmo qualcosa che è sopra di te pressione sulle scapole respiro inspiro su sul piano seguitare scendi superi le spalle il mento comincia ad andare sull'esterno omelico dentro vai a spingere giù le mani scarichi completamente il peso del busto giù spingi i tuoi gobiti e comincia a sentire tirare bene i flessori chiudi giù da qua piano piano riallinio apro vai a staccare alto inferiore sinistro allargando gli altri superiori inspiro e resto in equilibrio ginocchio che rimane in appoggio sempre sbloccato il controllo muscolare restiamo resta bravissimi da qua andiamo a distendere se ce la fai resti quattro secondi tre due uno fai una mezza rotazione vai laterale schiena le pelle dritte restiamo solo in equilibrio un bel passo andiamo a ruotare arti paralleli superiori e stiamo per qui inspiro palio su pancia bene dentro e estirando scendi giù superi le spalle intendo per cari sullo sterno omelico dentro e giù le mani spingo scarica bene il peso parti che sono distesi gli inferiori e piano piano andiamo a staccare l'arto inferiore destra e rimango cerca di distendere il sinistro che terra palio bene giù schiene dritte e rimani se ce la fai provi a tener l'equilibrio stacchi le mani restano vicino al terreno controi bene i quadricipi addome stop giù le mani di nuovo gran passo dietro e andiamo giù in affondo spingo bene giù il bacino ginocchio perpendicolare al tallone la tua mano sinistra terra ruota la destra verso l'alto e rimani e da qua vai a distendere pigiando bene con il tallone sinistra terra schiene dritte in massima rotazione le spalle in modo da fare una bella torsione stai distendi di nuovo in affondo stacca guerriero sguardo verso la mano sinistra bene estrarotata lato inferiore petto bello aperto stai torna giù e piano piano di nuovo giù a scaricare riavvicina leggermente i piedi e giù goviti giù spalle fai tirare piano piano riallineo apro e andiamo a staccare questa volta arto inferiore destra apri e rimani bene in equilibrio stop chiudi bene l'addome nuca in estensione pressione sulle scapole distendi arto inferiore rimani 5 secondi una rotazione va laterale busto anche sta 45 gradi tieni in equilibrio appoggia bello largo ruota lato superiore sinistra vai su stop inspiri e respirando scendi giù metto che cade sull'esterno ombelico dentro spingo giù mani testa verso il ginocchio arti sono distese rimango porta tutto il peso sul lato inferiore destro giù stacca il sinistro panni a terra ombelico bene dentro contrai e rimani piano piano prova a staccare le mani e a mantenere l'equilibrio strizza bene il gluteo l'addome e il resto mani a terra rampasso dietro bene giù in affondo spingi la la tua mano destra a terra la sinistra su e andiamo a ruotare bene le spalle pressione sulle scapole sguardo su e restiamo inspiri spingio con il tallone destro a terra distendi bene l'arte inferiore fai tirare i flessori e stop giù in affondo guerriero sguardo verso la tua mano destra petto bello aperto pressione sulle scapole stai bene il ginocchio perpendicolare al tallone piano piano su inspiri ed espirando shoo di nuovo scarica bene giù 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 andiamo ad appoggiare le mani il piede si infila tra la mano e l'altro piede e ci mettiamo seduti schiene dritte mani mani vanno in avanti da qua andiamo piano piano a inarcare la schiena solamente dieci gradi e pancia in dentro stop spalle basse pancia in dentro inarca il massimo la schiena le mani vanno lungo la gamba scivolano giù afferro la caviglia e vado a schiacciare il petto sulle cosce tiri la testa giù e i gomiti verso terra chiudi allungo tra petto sempre scarico riallineo vertebra per vertebra la schiena di nuovo dieci gradi e poi inarco la schiena risucchi l'omberico pancia in dentro inarca il massimo ancora una volta mani che sfiorano la gamba va a ferrare la caviglia con le mani schiaccia tira 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 da qui scivoli dieci centimetri in avanti gli atti sono sempre leggermente piegati sempre sulle caviglie e fuori aria ancora un'altra volta giù con il petto verso le cosce testa tra i binocchi e gomiti verso terra pancia in dentro stop schiaccia 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 per l'ultima volta ancora scivolano i taglioni arriva a completa estensione le mani sono sotto la caviglia tutto l'avant braccia terra e ancora cerco di schiacciare il petto verso le cosce spingi giù stai piano piano su riapri il petto appoggia appoggia mani in avanti dieci gradi mezzo roll stop piedi uniti da qui ombri come lì dentro inspiro vai su aumento la tensione sull'addome fuori aria chiudi l'addome piedi sull'addome in e stringo spalle basse ancora due non muovere il busto chiudi l'addome stringi volutamente attiva bene il trasverso ancora e su da qui mentre vai su quella schiena apri le ginocchia piante le piedi che si toccano stop schiene bene dritte partono gli api superiori mento che cade sullo sterro testo in basso obbedico dentro e avrai a rotolare mani sugli avanti piedi e tiri bene la testa verso gli avanti piedi e la pancia in dentro stop stiro bene giù chiudi bene l'addome fa tirare l'interno coscia da qui le mani vanno a ferrare la caviglia talloni che scivolano di nuovo giù e di nuovo sempre in massima pressione testa tra le ginocchia pancia in dentro e scarica e piano piano di nuovo su appoggio appoggio piedi uniti schiene dritte lo rifai da capo 10 gradi mezzo roll stop stringo due destabilizzazioni sali aumento il carico sulla bioma e fuori area di succhia dentro l'umbrico ancora insomma e giù mentre vai su divarica le ginocchia petto bello aperto partono gli arti superiori quando superano le spalle il mento che cade sullo sterro l'umbrico dentro le mani sugli avampiedi la testa che va verso l'avampiede l'umbrico bene dentro allungo 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 e tiro le mani dall'avampiede vanno sulla caviglia distendi ancora una volta gli arti inferiori e giù in massima pressione siamo sempre più giù e piano piano su aprono bene il petto appoggio appoggio guarda sia sufficiente spazio per distenderti e eventuale passetti in avanti del sedere in pieno controllo giù baricentro basso tengo 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 porti le ginocchia al petto e vai a schiacciare bene rombare a terra andiamo ad appoggiare i piedi giù a terra e semplice semplice subito in contrazione abdominale poi scivolare costato verso il bacino ombligo bene dentro spalle scariche una bella cifra al mente lo stermo in modo che la zona cervicale sia in estensione e sali con coscia destra ginocchio bloccato mentre scende la destra invertire su con la sinistra inspiro fuori più giù uno ancora chiudi due pancia in dentro tre serra l'addome quattro chiudi cinque ombligo dentro sei strizza sette chiudi otto nove e ancora dieci ultimi due unici dodici stop punta delle dita più in alto possibile perpendicolare le spalle non oltre su spingi ombligo dentro punta delle dita su e ancora fuori uno chiudi due tre quattro chiudi cinque sei sette otto nove dieci ultimi due undici dodici stop porti le ginocchia al petto schiacci zona lombare bene a terra petto bello aperto nuca in estensione andiamo a fare per 12 single leg stretch poi arti superiori lunghi pianti poi arti superiori perpendicolare al terra che no semplice semplice contrazione addominale spagna dalle basse vai allungare arti inferiore sinistro mano sinistra sul ginocchio destro mano destra sulla gamba vai schiacciare bene la coscia sul costante attivare bene le trasverse scivolare a chiudere ed ancora inspiri chiudi fuori uno ogni volta stretto chiudi due pancia in dentro tre serri quattro chiudi cinque dentro l'addome sei dentro 7 scarica bene tra i trapezzi 8 spalle sempre lontane dall'orecchio 9 chiudi e contrai bene 10 ancora 11 ancora 12 sto braccio lunghi fianchi altri 12 vai fuori uno stringo l'addome due fuori tre e ancora fuori quattro chiudi cinque pancia dentro l'addome e ancora fuori uno chiudi due più contraggo l'addome più scarico zona lombare tre e ancora fuori quattro cinque sei strizzo sette otto nave dieci ultimi due undici dodici giù schiaccia di nuovo e rimango andiamo ad appoggiare piedi a terra immaginiamo di avere un perno che attraversa il nostro bacino e permetta solo anteroversione e retroversione sul piano seditale pancia in dentro e ancora inspiro in arco spazio sotto zona lombare ed espirando fuori chiudi l'addome e ancora inspiro in arco ed espira schiaccia schiaccia utilizzando questo movimento inspiro in arco ed espirando schiaccia e vertebra dopo vertebra dal basso verso l'alto continui la rotazione del bacino immagina che ti prendano sintesi pubblica e te la tirino su pancia ben in dentro siamo in shoulder bridge l'addome è in contrazione massima più contraggo l'addome più scarico zona lombare e vado a isolare glutei e plessori nel lavoro arti superiori bene a terra spalle basse strizzi bene il gluteo chiudi l'addome movimento solo degli arti superiori inspirando vado su punta delle dita più lontano possibile l'addome tiene e espira fuori spalle basse fuori chiudi chiudi uno ancora so se fuori 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 su due ancora entro e chiudo fuori 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 su tre inspiro sto e chiudi quattro ancora so chiude stringo 5 in apro e ogni volta chiudi l'addome stresa il gluteo volontariamente 6 ultimi due, e ancora, spalle basse, stringo, sette, ultimo, non abbassare il bacino e compensa al massimo con la dame, otto, da qui, ti tengono sempre il bacino vertebra dopo vertebra, dall'alto verso il basso, riappoggio, e andiamo di nuovo in contrazione addominale, giù, ombelico bene dentro, porti, coscia 90 gradi sul busto, gamba 90 gradi sulla coscia, semplice, semplice, accoppiate, cercano di scendere, non in arco la schiena, vado a sfiorare il terreno, ma non tocco fuori l'aria, coscia e verso il costato, uno, e ancora, scendo, e pancia in dentro, stringo l'addome due, busto immobile, indipendentemente dal movimento degli atti inferiori, tre, occhio a non staccare, cocici da terra, cerca di venire su quelle spalle per cercare la massima contrazione dell'addome, quattro, altri quattro, chiudi, cinque, ginocchio bloccato, lavora solo l'angra, e ogni volta stringo l'addome, sei, più di due, due, vai, sette, uno, chiudi, otto, da qui vai giù con le spalle, mano a terra, divarica, inspiro, e qui distanti, ginocchia e tallone, e pancia in dentro, chiudi fuori uno, ancora, apro, e chiudi fuori 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 su due, inspiro, apro, pancia in dentro, schiaccio tre, ancora apro, pancia in dentro, fuori 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 su quattro, apro, dentro l'addome su cinque, apro, chiudi fuori fuori fuori, fuori su dieci stop, vai in contrazione addominale e ne rifai altri dieci, apro di varico, pancia indente e chiudi al massimo uno, in, contrazione volontaria degli addomi e degli adduttori che schiacciano due, ancora, schiaccia tre, inspira ogni volta, chiudi l'addome, punta dita più giù possibile, quattro, ancora, cinque, inspiro, fuori, stringo, sei, ancora, chiudi forte su sette, apro e chiudo forte, otto, due, chiudi, nove, ancora una, pancia dentro, fuori, fuori su dieci, ginocchio al petto, schiaccia, andiamo a montare il trancio inverso accoppiato con l'apro, chiudo degli arti inferiori, quindi sarà uno scendo, risalgo, apro, chiudo, ci mettiamo dei movimenti degli arti superiori in coordinazione, facciamo i primi movimenti lenti insieme, in modo da poter poi partire e trovare il giusto ritmo. Partiremo sempre posizione, arto superiore, coscia parallela, ok? Con me, mani alle ginocchia, contrazione addominale massima, porti la coscia perpendicolare al terreno, arto superiore, parallele alla coscia e perpendicolare al terreno. Da qui, mentre scendono le cosce, vanno sugli arti superiore a 45 gradi, e fuori aria, chiudo, uno, tornano paralleli, e da qui apro, fuori, vai più giù possibile, apro, e torno parallelo a due, e ancora, inspiro, e fuori, chiudi al massimo dal secondo, torno parallelo, e fuori, e inspiro, torno parallelo, e ancora, scendo, non riattaccare le spalle, e fuori, chiudo, torno su, inspiro, e fuori, e vado su, ancora inspiro, e fuori, chiudi al massimo, torno parallelo, e fuori, torno su, scendo e sali con gli arti superiori, fuori, e chiudi, puntare da più giù possibile, pancia in dentro, parallelo, a stoppare, fuori, andare giù e chiudere, parallelo, arti superiore, coscia, inspiro, vado su, parallelo, stop, e fuori, dinamico, parallelo, inspiro, su, e scendo e chiudo, parallelo, stop, e fuori, e stringo, parallelo, e mentre scendo da coscia, salgo un arti superiori, chiudi al massimo, fuori, parallelo, inspiro, fuori, li vai e vai giù, inspiro, su, l'ultimo, dai, su, chiudo e stringo, fuori, parallelo, fuori, stringi, inspiro, su, ginocchio al petto, schiaccia bene, spalle basse, scarica trapezio, quando stiamo su un pochino, in maniera prolungata, un pochino di tensioni, sono normali, tu sai, si cerca sempre di stare con la parte della cervicale, con la muscolatura più distesa possibile, piedi a terra, andiamo a montare movimento piano salitale e l'apertura degli arti interiori in shoulder bridge, naturalmente lo faremo prima con un alto, un alto, il destro, e poi con il sinistro, lo facciamo insieme anche qua, mangiù, inspiro in alto, ed espirando schiaccia il vertebra dopo vertebra, un velico dentro, vado su e stop, da qua, arti superiori, inspiro, vanno su a terra, ottimo, da qui, mentre scendono gli arti superiori, vieni su con la coscia destra, fuori aria, chiude, stop, da qua, in, apro, restando più possibile fermo con il bacino, attiva bene il trasverso, chiudi fuori e inspiro, stop, ancora destro, fuori, chiedi, da qui, apro lateralmente con il bacino bello bloccato, tieni, non ruotare, su e inspiro e ancora fuori, spalle basse, divarica lateralmente, bacino bloccato, torno a su, inspiro, vado su e ancora fuori, apri lateralmente stringendo al massimo la addome, torno in linea, inspiro, vado su e fuori, apri, torna su, inspiro, vado su e fuori, apro, torno, inspiro, vado su e fuori, l'ultima apertura, apro, torno, appoggio e stop, vertebra, vertebra, vado giù, ginocchio al petto e scarica, mi raccomando, compensa sempre al massimo addome per scaricare zona lombare, stessa routine dall'altra parte, sentire, sentirete bene attivati sia il flessore, gli schioprurali, quindi bicipite femorali, semimembranose, semitendinoso, ma anche bene l'interno coscia, gli adduttori, mani giù, inspiro in arco ed estirando, schiaccio e vertebra per vertebra, vado su, compensa bene con l'addome, prima cosa, arti superiori, inspiro, vado su e va su, coscia sinistra, fuori, mani giù a terra, apro lateralmente, il bacino è bloccato, tiene bene l'addome, su, inspiro, sfiora a punta delle dita e ancora, fuori, apro, tengo bene l'addome, chiudo, inspiro, e ancora fuori, spalle belle basse, apri lateralmente, resta, torno su, chiudo, su e fuori, apro, e torno su, inspiro, e ancora fuori, apri il bacino bloccato, chiudo, su e fuori, spalle basse, apro, bacino bloccato, stringendo l'addome, torno, in, su e fuori, apri, torno, scendo, vertebra per vertebra, giù, ginocchia, al petto, stop, va in contrazione germinale, massaglia la schiena, oscilla, siamo su in squadra, schiene belle dritte, petto bello aperto, partono gli arti superiori, superi le spalle, momento che cade sullo sterno, la testa che cade in basso, l'ombrico dentro, spingi in avanti, mani, sull'esterno del tallone, giù i gomiti e chiudi, spingi, 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 massima pressione, e piano piano su, appoggio, appoggio, qui, distendiamoci in controllo, scendo, schiaccio, appoggio, piede sinistra terra, distendo il destro su, afferri con le mani sopra, cavità pubblica, entrambi, contrai bene il quadricipto e stop, da qui, inspiri, e piano piano, andiamo a distendere l'arco inferiore sinistro, contraigo entrambi i quadricipti, aumento naturalmente la tensione sul flessore e rimango, respira bene profondo, da qui, inspiri, vai, su incontrazione addominali, immagina che sia una corda all'arco inferiore e l'utilità per arrampicarti, tieni sempre le spalle, lontano le orecchie, e resta, da qui, mobilizzazione, inspiro, punta in estensione, fuori aria, taglione verso l'alto, e ancora, inspiro, punta, e fuori, 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 fuori su due, inspiro, punta, piede a martello, fuori, fuori, fuori su tre, inspiro, punta, pancio dentro, fuori quattro, ultimi due, inspiro, chiudo ogni volta da dove, cinque, in, e fuori, 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 sei, stoppa, fletto il destro, stacca al sinistro, afferro sopra, cavità poplitea, con entrambe le mani e resti, bravi, bravi, piano piano, andiamo a distendere l'arte inferiore e a destra, aumentare la tensione, sulla parte posteriore della coscia sinistra, contrai bene entrambi gli arti interiori, inspiro, vai su incontrazione, ti arrampichi, sempre su, spalle belle basse, andiamo a mobilizzare, punti in estensione, inspiro, fuori, aria, uno, ancora inspiro su, e fuori, su, 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 due, e ancora inspiro, con tre belle quadricetti, fuori su tre, e ancora inspiro su, chiudi, fuori, 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 su, quattro, ancora, fuori, 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 su, cinque, inspiro su, fuori, 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 6, stoppa, ginocchio, al petto sfiaccio, andiamo a fare la nostra forbice, il nostro scissor, faremo dodici cambi con le mani, 12 cambi con gli arti superiori di fianchi 12 cambi con gli arti inferiori perpendicolari al terreno se non ce la fai aver controllo o fai flessi e estensioni all'esercizio precedente o continui con le mani che ti sostengono e vanno a strecciare l'arte interiore ok mi raccomando lavora sempre in progressione andiamo in contrazione addominale e in massimo controllo da qui entrambe le mani vanno ad arterrare la nostra caviglia destra la sinistra si distende parallele sguardo verso la punta del piede che è verso l'alto le spalle sono belle basse e da qui ispiri e fuori fai una e chiudi fuori fai su due chiudi fuori fai su tre e chiudi fuori quattro umbilico dentro cinque pancine due sei sette otto nove dieci undici dodici stop punta di dita più nasi possibile umbilico dentro cinque punto di dita più nasi possibile umbilico dentro uno due poi tre quattro punta di dita più nasi possibile l'ombilico dentro cinque sette sette scaricare l'entra pezzi otto nove chiudi al massimo ultimo stoppa giù schiaccia bene bravissimi andiamo a fare dei crunch inversi con arti interiori distesi non scendiamo oltre 45 gradi occhio a non staccare cosi che quando torniamo su in controllo di massima contrazione addominale cerca di arrivare alla massima contrazione sollevando le spalle scivolando il costato verso il bacino se non ce la fai fletti leggermente le ginocchia non completamente distesi gli atti caricarerai meno ok? avrai una leva più vantaggiosa con me mani alle ginocchia contrazione addominale massima restiamo andiamo a distendere arti inferiori perpendicolare al terreno punta di dita più possibile e resti da qua scendo giù ti fermo a 45 gradi e lento controllo la jump di potenza vengo su cerco la massima contrazione spingo uno e ancora giù e lento pancia in dentro spingo fuori fuori su due lento scendo se non ce la fai ginocchio bloccate sbloccate su e pancia in dentro fuori 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 su tre e ancora lento giù e pancia in dentro chiudi forte 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 quattro non esagerare non superare 45 gradi massimi e chiudo l'addome pancia in dentro fuori 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 su cinque non saccare mai non allombare la terra chiudo l'addome di potenza addominare sei altre due altre due pancia in dentro chiudi al massimo sette ultimo chiudi pancia in dentro otto scendi con le spalle giù la testa mani bene a terra e da qua arco inferiori inspiro punto in estensione pieno martello pancia in dentro tallone con tallone verso l'alto e lo vi dico che sprofonda verso la colonna uno inspira pancia in dentro fuori aria chiudi su due inspiro apro serro l'addome strizzo al massimo tre e ancora inspiro apro e pancia in dentro forte su quattro e ancora inspiro apro chiudo forte su cinque non molliamo pancia in dentro sei incomincia a sentirsi ora non mollare chiudi sette contrai bene quadriciti e l'addome strizzo otto gli ultimi due nove ancora chiudi tallone con tallone dieci vai in contrazione abbinale gli ultimi dieci inspiro fuori strizzo una e ancora apro due e non molliamo tre costato verso il bacino e sprofondo all'operico quattro ogni singola volta cerco la massima contrazione dell'addome cinque inspiro sei contrai quadriciti chiudo sette ancora fuori aria otto gli ultimi due nove l'ultimo dieci giù schiaccia bene stai andremo a montare l'unione di un crunch inverso con arti distesi ad un'apertura per gli adduttori in coordinazione con gli arti superiori anche qua arti inferiori superiori in posizione di partenza paralleli mentre scendono gli inferiori salgono i superiori andiamo su contrazione ok da qui apro vado giù fuori aria e ritorno sempre posizione parallele anche la posizione di partenza anche qua partiamo piano lo facciamo piano piano insieme mani alle ginocchia se non ce la fai ginocchia bloccate esercizio fatto in precedenza riproponi contrazione addominale si massima chiusura schiacci bene la parte lombare la terra distendi arti inferiori so arti superiori paralleli mentre scendono salgo inspiro 45 45 sto fuori aria puntalita più giù possibile stai torno sulla parallela inspiri e fuori divarico piede a martello vado su e da qui inspiro 45 45 non mollare fuori spingi all'estate seconda torno sulla parallela e fuori divarico piede a martello vado su inspiro 45 45 fuori chiudi puntalita più possibile parallelo so inspiri fuori divarico piede a martello vado su parallelo inspiro vado su e fuori chiudi torno sulla parallela inspira fuori divarica piede a martello verso l'alto e sto su da qui inspiro 45 45 chiudo fuori stringo parallelo so inspira fuori e le spingo inspiro e vado su e fuori chiudi parallelo fuori inspira e continuo ad andare su e ancora fuori stringo parallelo divarico vado più giù possibile con l'alto superiori inspiro sull'ultimo giro vai so chiudo fuori parallelo divarico giù in espiro so stop e recupera bravissimi schiaccia bene recupera cosa andiamo a fare andiamo a montare all'esercizio fatto in precedenza lo shoulder bridge con il ginocchio bloccato a 90 gradi con l'alto disteso quindi sarà sempre coordinazione arti superiori e inferiori piano piano prima il destro poi il sinistro 8 e 8 e mi raccomando compensa sempre al massimo con l'aggione lo costruiamo insieme nessuna paura io spiro in arco zona lombare espiro pancia in dentro schiaccia vertebra dopo vertebra vado su compensa bene costato verso il bacino a stringere l'aggione a scaricare zona lombare e vado su con gli arti superiori distosso stacca arti inferiori e destro coscia in linea stai inspiro cuori aria più giusto possibile stai all'arca bacino bloccato fuori piede a martello e inspiro tallone lontano da punta del testo e ancora fuori divarica piede a martello tallone verso l'alto e ancora piede a martello inspiro e ancora fuori divarico con il bacino bloccato piede a martello torna in linea e inspira e ancora fuori 4 apro piede a martello tallone verso l'alto e pancia in dentro inspira e fuori 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 5 apro piede a martello tallone verso l'alto inspiro spingi il tallone torna in linea con la coscia e fuori 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 6 apro piede a martello su e ancora fuori 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 7 apri con il bacino bloccato piede a martello in linea su l'ultimo 8 apro piede a martello e scendo fletta appoggio vertebra per vertebra vado giù ginocchia al petto schiaccia e recuperi ottimo stessa cosa dall'altra parte sarà l'alto inferiore sinistro che vi farà 8 movimenti pronti ho percepito sia distanza piega a terra mani giù inspiro in arco ed espirando schiaccia vertebra dopo vertebra ombelico bene dentro stai arti superiori vanno su prolungamento del bus a terra stacchiati inferiore sinistro inspiro fuori area su apri tira martello torna inspiro allunga e stop e ancora fuori apri lateralmente tenendo bene la brame tira martello torna stop e ancora fuori apri tira martello su inspiro e fuori su su 4 apri tira martello talone verso l'alto inspiro e ancora 5 apri lateralmente tira martello pira martello su inspiro e ancora fuori 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 6 apri lateralmente contrai al massimo pira martello su su e ancora fuori 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 6 apri lateralmente pira martello su gli ultimi due vai apri lateralmente su torno l'ultimo su lato piede martello scendo fletta appoggio vertebra dopo vertebra giù ginocchia al petto contrazione addominale massaggia la schiena oscilla su inesquadra inespiri apri bene il petto partono gli arti superiori mento che cade sullo sterno testa che cade prima in basso poi vai in avanti in punta di diritta delle mani e dei piedi più in avanti possibile aperra l'esterno del tallone giù i gomiti massima flessione del busso più di là dove sto piano piano su appro bene il petto mani verso di me fletti arti inferiore opposta a me l'altro spazza divarica bene giù i gomiti scarica e stop e siamo pronti a fare il nostro decubito laterale bello e importante una ottima tonificazione del gluteo e poi anche dell'interno coscia andiamo a portare il tuo piede destro verso sinistra e ci mettiamo giù sdraiati in decubito laterale primo step portiamo entrambe le cosce 90 gradi sul busso la gamba 90 gradi sulla coscia petto bello aperto bacino bloccato semplice semplice da qua stacca un centimetro inspiri su fuori non tocco sioro vai a strizzare il gluteo chiudendo bene l'addome senti l'eccentrica dei quadricipi e pieno isolamento del gluteo fuori uno sioro su scendo e fuori 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 strizzo due avanti salvo scendo chiudi forte 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 su tre avanti scendo e forte 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 su quattro avanza salvo scendo pancia indentro strizza il gluteo su cinque avanza sali scende con il bacino bloccato pancia indentro e chiudi pancia indentro sei il bacino resta fermo vai su scendo e forte 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 su sette su salgo scendo e chiudi 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 otto avanzo sali scendo e chiudo forte 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 su nove e ancora su giù strizza il gluteo dieci ultimi due avanzo sali scendo pancia indentro strizzo il gluteo undici e l'ultimo su scendo e su su giù appoggio da qua cosce vanno prolungamento del busto l'angolo del ginocchio rimane costante appoggia il gomito terra andiamo su in mezzo a spingere e da qui sale avanzo torno va a sfiorare senza toccare uno salgo avanzo torno in linea scende senza sfiorare due sale avanzo torno scendo su tre sale avanzo torno scendo quattro sale avanzo torno scendo cinque non riappoggiare sale avanzo torno scendo sei sale avanza torna scendo sette salgo avanzo torno scendo otto salgo avanzo torno scendo nove sale avanza torna scendo dieci sale avanzo torno scendo undici ultimo sale avanzo torno scendo dodici stop da qua ginocchia entrambi a terra poggia mani poggia mani piano piano da plank due piccoli passetti con i piedi siamo in V schiaccia al massimo e stop giù andiamo a fare un gran passo con il tuo piede destro che avanza torna al centro scarico dall'altra parte stessa routine naturalmente non è finita poi continua vai sinistro verso destra giù di stesi prima portiamo cosce 90 gradi sul busto gamba 90 gradi sulla coscia petto bello aperto stacca due centimetri e andiamo fuori scendo e va a strizzare l'addome gluteo pancia in dentro e stringi al massimo gluteo uno torna su scendo pancia in dentro fuori 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 su due avanzo sal scendo fuori 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 su tre avanzo sali parallelo al terreno scendi non tocco e pancia in dentro stringo forte su quattro avanza sale scende stringi l'addome e isola il gluteo su cinque avanza senza toccare parallelo equidistante ginocchio e tallone dal terreno scendo fuori su strizza sei avanzo sali scendo chiudo l'addome stringo forte il gluteo sette avanzo salgo scendo scendo stringo l'addome e isola il gluteo otto avanza sali scendo pancia in dentro fuori su nove e ancora avanzo scendo forte 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 dieci e ancora gli ultimi due salgo scendo undici e ancora sali scendo su dodici sta torna avanti appoggio ginocchio contro ginocchia porta le cosce prolungamento del busto la gamba 90 gradi pronti per la mezza spinge e stiamo su bene e da qui stacca fuori avanza torna va a sfiorare uno salgo avanzo torno scendo ginocchio ginocchio due salgo avanzo torno scendo tre sali avanzo torno quattro salgo avanzo torno cinque sali avanzo torno sei sali avanzo torno sette salgo avanzo torno scendo otto sali avanzo torno nove salgo avanzo torno scendo dieci gli ultimi due sali avanza torna undici salgo avanzo torno dodici ginocchia che vanno giù appoggio mani da plank passiamo con dei passetti in V schiaccia bene pressione sulle scapole allunga bene catena cinetica posteriore gran passo con il piede sinistro che avanza torno al centro scarica bene giù 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 scarico scarico ottimo bene 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 da qua di nuovo arto inferiore destro verso sinistra e giù di nuovo in decubito laterale parti di nuovo coscia 90 gradi angolo del ginocchio anche a 90 gradi questa volta l'arto inferiore sinistro sarà disteso l'addome bene dentro e andiamo a slanciare in avanti su pieno martello sale scendo strizzo il gluteo e resta uno avanza pieno martello sale bacino bloccato scendo e strizzo il gluteo due avanza pieno martello sale scendo stringi l'addome e il gluteo massimo contrazione tre e ancora avanza tiro martello sale parallelo non ruotare la punta verso l'alto scendo pancia indentre strizza il gluteo quattro avanza tiro martello salgo scendo pancia indentre strizzo cinque punta tiro martello sale scendo e strizzo forte sei punta avanzo tiro martello salgo scendo strizzo sette e ancora avanzo tiro martello sali scendo strizzo otto punta tiro martello salgo scendo pancia indentre e strizzo al massimo nove gli ultimi tre punta tiro martello sali scendo chiude ne mancano due avanza tiro martello salgo scendo e strizzo e strizzo l'ultimo su sale scendo strizzo da qui appoggia il piede a terra la coscia va in linea con l'altra coscia sempre in mezza spinge del cubito laterale andiamo a fare un qualcosa di diverso stacco e da qua fiora su avanza piede a martello scendo appoggio da qua stacchi ginocchio destro e rimani tre due uno riappoggio al ginocchio e ancora stacco avanzo strizzo scendo e ancora stacca il ginocchio se non ce la fai rimani in appoggio col piede però il ginocchio stacca due uno appoggio sale avanzo giù scendo e stacca tre due uno scendo tre e ancora stacco avanzo scendo giù e stacca tre due uno appoggio quattro su avanzo scendo appoggio e stacca tre due uno appoggio cinque su avanzo dietro giù e stacca il resto tre due uno appoggio sei su avanzo giù scendo e stacco tre due uno appoggio sette su avanzo giù scendo e stacca tre due uno appoggio otto su avanzo giù scendo stacca tre due uno appoggio nove su avanzo giù scendo sacca tre due uno appoggio dieci chiusi due su scendo sacca tre due uno undici ultimo pa avanzo scendo giù sacco tre due uno appoggio giù entrambe le ginocchia mani mani e da qua plank e in schiaccio questo dovrebbe aver aumentato la sudorazione pressione sulle scapole ti ho detto se non ce la fai a staccare completamente l'arto rimani con il penino appoggio stacca solo il ginocchio gran passo con arte inferiore destro e scarico e recupero bravi dai giù abbannona peso e da qua mani arte inferiore sinistro verso destra ci distendiamo giù coscia 90 gradi sul busto gamba 90 gradi sulla coscia pezzo bello aperto andiamo a distendere completamente alto inferiore destro da qua slancio in avanti piero martello sal scendo stringo l'addome gluteo bacino bloccato uno avanti piero martello sale parallelo scendo pancia in dentro è stritto il gluteo forte due e ancora avanza piero martello su precisione e chiudi l'addome quadrici del gluteo fuori su tre punta piero martello sale scendo fuori 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 strizza quattro e ancora piero martello su scendi chiudo l'addome strizzo il gluteo cinque contrazioni massimo e volontaria sali scendo chiude stringo sei e ancora su piero martello salgo scendo tutto in massimo controllo del busto sette il busto non si muove indipendentemente dal movimento che facciamo fare all'arte interiore pancia in dentro e strizzo il gluteo otto ed ancora sali scendo fuori strizzo nove e ancora su giù chiudo l'addome dieci dobbiamo fare gli ultimi due non mollare ora fuori undici il bello arriva ora dai 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 giù strizzo dodici appoggio porto la coscia in linea con l'altra coscia pronti con gomito in appoggio stacca il bacino e da qua sali avanza giù appoggio e stacchi tre due uno e appoggio ginocchio sinistro su avanza pieno martello scendo giù appoggio e stacchi tre due uno e appoggio due su avanza giù appoggio e stacca tre due uno scendo tre punta avanza pieno martello scendo e stacca tre due uno scendo quattro su avanza giù scendo e stacco tre due uno e scendo cinque punta su giù scendi stacca tre due uno scendo sei su avanza giù appoggio sacca sacca tre due uno scendo sette punta avanzo giù scendi sacca tre due uno otto punta avanzo dietro dietro giù e stacco tre due uno scendo nove su avanzo giù dietro sacca tre due uno dieci su avanzo giù scendo e stacco tre due uno undici l'ultimo pa giù giù sacca tre due uno appoggio ginocchio giù mani mani plank stai e siamo in V schiaccio al massimo pressione sulle scapole ombelico dentro e resti allunga gran passo con piede sinistro siamo al centro giù gomiti scarica bravissimi abbiamo rimasto l'ultima routine non molliamo ora scarica appoggia le mani ginocchio ginocchio e andiamo a fare il nostro decubito provando con delle sospensioni portiamo il nostro corpo lungo il tappeto quadrupedia mobilizzazioni ispiri in arco ispiri con pressione sulle scapole fuori aria resta qualche secondo ispiri in arco resta qualche secondo e risucchio dentro l'ombelico e ancora giù resta resta nella posizione concava e ancora inspiro in arco in arco in arco in arco e ancora giù 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 e su 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 resta qualche secondo resta resta curve naturali bravi andiamo in v rovesciata appoggio bene le mani appoggio gli avampiedi e v rovesciata equiparo peso fra arti superiori ed inferiori contrai bene i quadricipidi spingi i talloni verso terra glutei che guardano il soffitto pressione sulle scapole stai andiamo in appoggio sulle ginocchia vertebra per vertebra srotolo inspiro vado di su con gli altri superiori e da qua andiamo a formare una z busto prolungamento delle cosce scendo tiro di l'addome stretto glutei spalle basse e caricamento quadricipi uno apro e ancora fuori 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 su due apro bene il petto e ancora scendi chiudi con i talli tre e ancora chiudo forte forte spalle basse quattro resta tre due uno su e da qui di nuovo scendimento che cade sullo ster obelico dentro appoggio le mani avampiedi v rovesciata sto in pressione scarica 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 andiamo in plank due micro passetti delle mani e stiamo in plank resta bene in plank resto 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 e piano piano se non ce la fai appoggia le ginocchia altrimenti fai un piegamento lento in eccentrica lento scendo lento scendo lento scendo lento scendo giù appoggia avambracci chiudi bene l'addome nuca in estensione ombri covelli dentro restiamo su piano piano scendi perno perno sulle ginocchia mani che forzano di fianco al petto e da qui di nuovo burvesciata schiaccia andiamo ad avanzare con arti interiore destro bom bello ampio giù le mani sull'interno del piede spingi bene giù piano piano stacca le mani stai in equilibrio inspiri paralleli vado su bacino bello basso resti e ancora scendi giù bene in appoggio torna non appoggiare in plank stai va in V va in pressione solo il piede sinistra rimane giù stai di nuovo in plank appoggio ginocchia a terra srotola inspiro e da qua inspirando vado in su con l'arco superiore destro mano sul tallone sinistre spingi bene le estensioni spingo 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 tira tira inverti le mani destra giù sinistra in alto stai allungo torna su scendi giù le mani e ancora in V ancora il destro in avanti spingo di nuovo giù stacca le mani equilibrio quando su parallele stai resta appoggia di nuovo le mani vai in plank senza appoggiare il destro stop e ancora in V e alto inferiore destro prolungamento del busto pressione sulle scapole resta di nuovo plank sempre in appoggio solo sul sinistro e vado giù piegamento in eccentrico lento senza che appoggi il destro appoggia e da qua piano piano andiamo su leggermente a staccare i gomiti ancora non sono distesi gli arti superiori spalle basse chiudi bene l'addome se hai problemi alla schiena non esagerare rimani sugli avambracci non esagerare con l'estensione appoggio però sulle ginocchia senza rotina all'altra parte avampiedi V schiaccio pressione 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 giù glutei verso l'alto giù i talloni gran passo con il sinistro giù stai trova l'equilibrio ax superior mano su e resti dentro bene la gialla scendi mani a terra ruoto plank solo con il destro in appoggio V stai pressione giù i talloni destro chiudi bene l'addome e resti di nuovo plank monopodalico appoggio ginocchio piano piano su mano sinistra questa volta in alto destra su quel tallone chiudi bene l'addome e guarda bene l'estensione resti piano piano faccio il cambio va su la destra giù la sinistra spingo entrambi su giù mentre oreccare sulla stella non beco dentro mani giù appoggio gli avampiedi V schiaccia e andiamo a fare un gran passo con il piede sinistra in avanti spingi stacca le mani su paralleli tengo bene l'addome resta di nuovo giù plank senza ripoggiare stop di nuovo B pressione sulle scapole giù il tallone destro di nuovo plank senza ripoggiare e un piegamento lento in eccentrica solo con il piede destro in appoggio scendo appoggio entrambi giù pomendo dentro sempre un pochino più di stessi gli atti superiori spalle basse giù i gomiti nucleo estensione strida al massimo la dava i glutei e le mani scendo giù perno sulle ginocchia mani burrovesciata schiaccia 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 bene giù stai da qua piega leggermente le ginocchia fai un saltello squat in isometria peso di talloni allarga bene interna coscia schiene dritte nuca in estensione resti appoggia sedere in alto piccolo saltello di nuovo giù in V se non ce la fai fare questi piccoli saltelli appoggia prima un piede poi l'altro non ci sono problemi appoggio le ginocchia ombelico dentro se non hai problemi con la colonna vai in completa estensione prima al destro giù poi al sinistro chiudi bene l'addome e stop stringi se no non forzare apro ma sempre con la colonna in estensione su piano piano in appoggio e ancora di nuovo in V schiaccio allunga forte giù piega e un piccolo saltello di nuovo in squat in iso schiene dritti apri bene l'interno coscia giù il sedere stai appoggia le mani saltello su in V schiaccio plank piano piano stringi l'addome scendi giù stendi bene i piedi pancia bene dentro cerca di stare con gli atti inferiori ben distesi stop da qui il collo del piede a terra stacchi anche gli atti inferiori e rimango chiudi al massimo l'addome inutile sezione spalle basse appoggio scarica sedere stalloni giù piano piano siamo di nuovo in quadripedia di nuovo in V ad allungare giù i talloni pressione sulle scapole gran passo con il piede opposta me ci mettiamo giù belle centrali scarica bene restiamo giù schiene dritte appoggio la tua mano sinistra terra la destra su rotazione della colonna fa tirare bene l'interno coscia tiri stai cambia tira rotazione e sto dall'altra parte nuca in massima estensione e ruoto spingi 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 appoggia porta tutto il peso sul tuo tallone destro sedere bene indietro fa tirare ancora interno coscia scendi giù passa dall'altra parte giù stai e piano piano di nuovo giù i gomiti scarica mano destra sul gomito sinistro mano sinistra sul gomito destro spingo bene i tuoi gomiti e rasenti al terreno fuori ruoto e porta gli avambracci perpendicolari dall'altra parte fuori spingo e ancora e fuori giù e ancora e fuori giù e scendi appoggio alle mani punta tallone a chiudere piega le ginocchia costato attaccato alle cosce mani sulle caviglie inspiri quindi cerca di estendere testa giù gomiti indietro cerca di arrivare fin dove puoi estendere gli arti inferiori senza staccare il costatore alle cosce tira 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 ancora piega una volta e fuori allunga allunga allungo tiro appoggia le mani sulle ginocchia attenzione se gira la testa con il deflusso sanguigno fermati in secondo riallinea bene su petto bello aperto allarga inspiri massima in espira svuota completamente e stringi la gioia ancora due aprono espira scendo 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 spalle basse il prossimo in espiri la tua mano destra va sull'orecchio sinistro la mano sinistra bene verso terra allarga bene il petto allunga e respira profondo la mano va dietro la nuca allungo zona cervicale stai e piano piano su dall'altra parte ancora mano sinistra questa volta su orecchio destro scendi svuota completamente mani che va dietro la lunga zona cervicale tira 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 distendi la nuca petto bello aperto ancora l'ultima in cerca la massima di ispirazione allarga il tuo raccio resto qualche secondo svuota fino all'ultimo centimetro burro d'aria stringi l'addome costato verso il bacchino schiene belle dritte testa in estensione io mi sono divertito tantissimo questa lezione mi è piaciuta spero che sia piaciuta anche a voi mi diventa salutare stoppola diretta Instagram un secondo ottimo eravamo in tantissimi pronti mamma mia Silvia Amelia Ila Lucia Cristina Armida Sonia Sara Katia Simona Barbara la Robi Simo Sara Nelle Sissi Alberto Sirana sicuramente la Lori Lady Leli Elena com'è andata spero che siete state siete state bene anche voi bella bella sudorazione no Sami torta buonissima la Sami mi ha spedito a Pasqua la torta da Poligno ha fatto una papà è stata carinissima grazie mi ha ripagato con il genere alimentare che è una delle cose che mi piace di più Maria grazia ciao la Bavi un abbraccione per chi ha il personal group dei giovedì ragazzi ci vediamo giovedì ho già una lezione montata un pochino più spinta qui abbiamo bruciato 300 calorie in 15 minuti con cardi per il pensimetro quindi un buon lavoro cardio ve la metterò fra domani o dopo domani non so più probabile di a quale lì quindi avrete anche materiale per allenarvi e niente io vi ringrazio eravate veramente tanti questa sera mi ha fatto estremo piacere vedere una cospicua classe a distanza che mi seguiva un bacione grazie grazie a tutti alla prossima spumeggiante addirittura ci metto sempre tutta la passione ciao ragazzi